Siamo tornati qui in questa bellissima spiaggia Punta Marina Terme, una spiaggia che come dico sempre in questo momento è vuota ma che dal 13 di giugno si rianimerà con i bellissimi colori di insieme a te, bianco e azzurro e rosso. E rosso, siamo vicini al rosso quindi c'è. Allora abbiamo parlato di tante cose in questo cammino con Deborah di come è nata delle caratteristiche di questa associazione, io in realtà ho conosciuto l'associazione per caso, ve lo devo dire la verità, anzi ringrazio pubblicamente Giorgio Le Magiche Fruste, ringrazio Riccardo che mi invitò a questo bellissimo evento perché vennero qua un pomeriggio a fare un po' di animazione. Fecero un'ora di balli di gruppo loro davanti appunto a tutti gli ospiti del bagno e fu davvero un pomeriggio effervescente, divertente perché si sono mischiati insieme appunto ai villeggianti di questo bellissimo stabilimento balneare con una naturalezza, con una tranquillità che poi alla fine è stato proprio un momento di festa, è vero? Quindi qui si può venire anche semplicemente a fare un po' d'animazione. Sì come ha fatto esempio Giorgio Le Magiche Fruste che anch'io voglio ringraziare personalmente perché oltre ad aver visto comunque una squadra veramente seria, bravi, io li ho visti veramente uniti, mi sono piaciuti fin dall'inizio tantissimo proprio perché veramente nella semplicità poi che si vedono le cose più belle e come loro tanti altri comunque hanno partecipato qui in spiaggia con ognuno portando il proprio evento, nel senso magari dall'associazione che ha portato, io dico sempre per esempio i salumi, loro hanno fatto un buffet per tutti noi qua in spiaggia. Ottimo evento, complimenti. Sì esatto. Perché voi sapete che in Romagna si mangia, ve lo dico sempre. Sì esatto, quindi non poteva mancare l'evento. O se no magari l'associazione che veniva magari a fare anche animazione, veniva, abbiamo avuto un po' di tutto, una situazione ad esempio che in Cavi Cristiana ad esempio ha fatto un concerto, abbiamo avuto un po' di tutto qua. La cosa bella è proprio questo perché è una realtà che avvicina tutto e quindi senza, non per forza che sia una cosa a livello sociale ma ognuno mette un po' del suo, l'importante è partecipare. Sono d'accordo come la festa finale che io purtroppo ho mancato perché vedete lavorando tanto non riesco poi ad essere attenta sui social, l'ho persa la festa di chiusura con la Proloco. Peraltro io saluto Laura Codarin e tutti i ragazzi della Proloco perché mettono davvero l'anima e il cuore in questa bellissima e ridente cittadina romagnola di mare perché davvero sono bravissimi, fanno tanto e hanno fatto la pericena qui. Sì insieme al volo di Martina, sì un'altra associazione esempio che ha dedicato una serata completamente a noi, quindi io dico solo grazie. Ma poi anche queste collaborazioni proseguono anche durante l'inverno, quindi non è solo d'estate, sono associazioni che comunque anche con noi ci richiamano durante l'inverno, quindi per me è molto bella anche questa cosa qui. Vedete che meraviglia, io vi parlo sempre del ballo perché il ballo fa bene, unisce, è sano, è divertente e fa nascere amicizie. Però è molto bella anche questa cosa, partecipare ad un'associazione, avvicinarsi ad un'associazione e comunque di associazioni in Italia ce ne sono tantissime perché c'è proprio bisogno di aggregazione e di sentirsi utili per qualcuno, vero? Assolutamente. Allora io ringrazio Deborah per questa piccola nuova puntata insieme ma sarà con noi ancora perché appunto parleremo di insieme a te e sarà il nostro bellissimo regalo, speriamo di poter fare davvero tantissimo con Enerjoy il ballo che unisce appunto che ha sposato questo progetto da quest'anno Io ballo per te e quest'anno appunto Enerjoy balla per insieme a te. Grazie Deborah, alla prossima. Grazie a tutti voi.